L'omicidio stradale legge. Dopo 5 passaggi parlamentari e 2 voti di fiducia, lo scorso 2 marzo il Senato, con 149 sì, 3 no e 15 astenuti, ha approvato il disegno di legge che introduce, dopo anni di dibattiti e battaglie dei familiari delle vittime della strada, il reato di omicidio stradale. In asprimento delle pene per i pirati della strada con la previsione del carcere sino a 20 anni con le aggravanti per chi fugge, obbligo di arresto in fragranza per chi alla guida, ubriaco sotto l'effetto di stupefacenti, provochi un incidente mortale, sono alcune delle novità introdotte dalla legge. Cambia molto dal punto di vista etico e morale. In sintesi cambia molto dal punto di vista della civiltà del nostro paese. È chiaro che se è sempre pensato, se ne è discusso tanto, di questa trasformazione dell'illecito amministrativo, in reato, quindi nell'ambito proprio del codice penale. È chiaro che chi guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche nella logica giuridica è una persona che sa comunque, che guida in una condizione assolutamente alterata, quindi nella sintesi si accolla, diciamo così, il rischio delle conseguenze. Già questo giuridicamente definisce quello che si chiama dolo eventuale, cioè proprio la consapevolezza dell'acquisizione del rischio della propria azione. Quindi è da tempo che si auspica questo passaggio tra una responsabilità prettamente amministrativa verso una responsabilità di tipo chiaramente penale, che è quello che l'Europa, peraltro, dove questo reato esiste ormai da tempo, comunque auspica. Quindi direi che cambia molto, nel senso giuridicamente cambia proprio la definizione. Cioè c'è un passaggio, non è più un ambito amministrativo, ma un ambito prettamente penale, dove la persona viene perseguita semplicemente perché sa di guidare in una condizione alterata, quindi si accolla il rischio della propria scelta. E questo giuridicamente si chiama dolo eventuale, che è un dolo di primo grado. Quindi cambia proprio molto, c'è un passaggio, diciamo, dalle leggi amministrative al codice penale. Cambia soprattutto però molto dal punto di vista della civiltà, perché così le persone comprenderanno finalmente che non ci si può mettere alla guida in queste condizioni, non soltanto per una scelta di cautela della propria vita, che poi ognuno è responsabile per sé, ma soprattutto per il rischio e per le conseguenze che generano nei confronti degli altri, che sono assolutamente, come dire, estranei a questa condizione.